Sono sicuro che almeno una volta ti sarai chiesto, ma quelli bravi, ma che ci capiscono nel movimento dei prezzi, nei grafici di borsa, dei vari strumenti finanziari? Se anche tu ti sei fatto questa domanda e vuoi capire come leggere, imparare a leggere i grafici dei mercati finanziari, allora sei finito nel posto giusto, al momento giusto, perché nel video di oggi ti spiegherò esattamente come leggere i grafici. Da quello più semplice, come questo che stai vedendo in questo momento, a quelli più complessi, più particolari, che sono sicuro che ti manderanno fuori di testa per quanto sono fighi. Prima di iniziare però, se sei all'inizio e vuoi approfondire il mondo del trading, abbiamo fatto un'iniziativa completamente gratuita che si chiama Trader Multiday, dove abbiamo raccolto una guida con i 10 migliori indicatori di analisi tecnica, due report sulle migliori azioni nel campo dell'intelligenza artificiale e della rivoluzione delle auto elettriche, tre liste con le azioni più sottovalutate, interessanti del momento, quelle più comprate dagli insider e quelle più comprate dagli istituzionali, e in più ti becchi anche diversi giorni di formazione, sette video formativi sul trading multiday e cinque trading room multiday, per chi vuole, magari come te, imparare a fare trading multiday, quindi di più ampio respiro, ed ottenere un'entrata extra al proprio lavoro. Il link lo trovi qui sotto in descrizione, ci clicchi, ci vuole un secondo, ti registri e hai accesso a tutto questo materiale in maniera completamente gratuita. Ora è arrivato il momento però di iniziare, iniziamo a vedere un po' i grafici, guardo di qua perché ho di qua il monitor, e cerchiamo di capire un po' che tipologie di grafici ci sono e che cosa vogliono dire. Allora, questo è un classico grafico a linee, che cosa ci dice un grafico a linee, che cosa ci fa vedere? Grafico lineare ci mostra i prezzi di chiusura, quindi ogni punto di questo grafico ci mostra il dato in cui il prezzo ha chiuso in quell'unità di tempo. Quindi facciamo un esempio, adesso ci troviamo sul grafico settimanale, quindi questo è il settimanale, quindi ogni punto di questa linea ci fa vedere il prezzo a cui lo strumento finanziario che stiamo guardando, quindi in questo caso l'azionario globale, ha chiuso ogni data settimana. In questo momento possiamo dire che l'ultima settimana lo strumento l'ha chiuso a 73.26 euro e così via anche in passato. Chiaramente possiamo fare questa analisi, questa lettura sia nel settimanale che sul giornaliero, il giornaliero ogni punto ci fa vedere dove ha chiuso il giorno quello strumento finanziario, ma possiamo vederlo anche in unità di tempo più ristrette, come ad esempio un'ora, avremo modo di vedere un grafico molto più frastagliato, fino addirittura ad arrivare anche ad un minuto o ad unità di tempo ancora più piccolina. Però in questo caso il grafico a linee ci fa vedere i prezzi di chiusura di ogni unità di tempo. Qual è il vantaggio dei grafici a linee? Il vantaggio dei grafici a linee è che eliminano il rumore, eliminano la confusione, quindi ci mostrano un grafico molto più pulito. Tante volte andiamo sempre più alla ricerca di informazioni più complesse, vogliamo vedere di più, di più, di più, ma aggiungendo informazioni non facciamo altro che complicare la lettura e molto spesso less is more, quindi meno di più e quindi vale la pena ridurre le informazioni che abbiamo a disposizione per avere una visuale un po' più chiara. In questo momento ad esempio possiamo vedere in maniera abbastanza semplice che informazioni tiriamo fuori da questo grafico adesso. Vediamo che dopo un trend rialzista, che è quello che è partito dai minimi del covid, i prezzi sono saliti, hanno avuto un trend rialzista e dai massimi di fine 2021 ad oggi per un anno si sono mossi in laterale all'interno di un trading range molto definito. E che adesso la volatilità, le oscillazioni si stanno schiacciando. Vedi come si stanno schiacciando? Quindi c'è quella che si dice in gergo una compressione di volatilità che anticipa le ripartenze dei prezzi, quindi i movimenti direzionali. Ricordiamoci sempre che i prezzi oscillano. Dove oscilla? Che movimenti possono fare? O salgono, o scendono, o si muovono in laterale. Non ci sono altre opzioni che possono fare i prezzi. Quindi, anzi, se vogliamo ancora semplificarla ulteriormente, possiamo dire che i prezzi o si muovono in maniera direzionale, quindi verso l'alto o verso il basso, movimento direzionale, oppure si muovono in una fase laterale. Altro non possono fare. Una cosa importante, prima di andare a vedere gli altri grafici, che sono sicuro che molti di questi non li conosci, ricordiamoci sempre, quando guardiamo i prezzi, che non stiamo vedendo un numero che oscilla. Questo qui è un errore che fanno in tantissimi, purtroppo, e che vedono i prezzi e qui vedono 73,26, 72,71, ha salito, è sceso, è salito, è sceso. No. Quando guardiamo i prezzi, ricordiamoci sempre che i prezzi sono l'espressione, il risultato dell'incontro tra la domanda e l'offerta. Cioè, i prezzi sono frutto dell'interazione tra compratori e venditori, sono l'effetto di una battaglia continua giornaliera tra compratori e venditori per prendere il controllo del mercato. Quindi è un risultato psicologico. Nel mercato, in ogni dato momento, ci sono compratori e venditori. Compratori che stanno comprando, compratori che stanno vendendo, venditori che stanno vendendo, operatori che stanno comprando e sono in profitto, operatori che stanno vendendo e sono in perdita. Anche lì, tra chi opera è in profitto e chi opera ed è in perdita, l'atteggiamento, la psicologia è completamente diversa. Perché chi sta perdendo subisce determinate emozioni, chi sta guadagnando è vittima magari dell'avidità, dell'euforia. Chi invece sta perdendo è in preda alla paura, allo sconforto, al panico. E chi è in euforia e chi è spaventato ha degli atteggiamenti, dei comportamenti completamente diversi. E i grafici sono il risultato, la risultante di questa interazione. Quindi capite come è vero che i prezzi o salgono o scendono, che ci sono compratori o venditori, che gli operatori possono o guadagnare o perdere. Ma è anche vero che il risultato del movimento dei prezzi è frutto dell'interazione di tutti questi operatori e della psicologia di questi operatori. Quindi ricordiamoci sempre che noi stiamo guardando il risultato dell'interazione tra compratori e venditori e le implicazioni psicologiche che hanno, che stanno avendo o che hanno avuto. E quelle che sono anche le loro aspettative. Bene, detto questo, quindi in un grafico, vediamo un grafico a linee, ci dà una rappresentazione molto chiara e pulita. Cioè qui credo che tutti quanti riusciamo a leggere un movimento rialzista di prezzo, che è questo, e una fase laterale dopo un movimento rialzista. Va bene, attenzione qui siamo su un grafico giornaliero, questa fase laterale è durata due anni. Va bene, quindi ci sono due anni gli operatori che devono avere molta pazienza. Va bene, quindi perché hanno visto per due anni i prezzi lateralizzare, però queste qui sono fasi normali che normalmente anticipano, sono il preludio per una nuova fase direzionale. In continuazione del trend precedente, quindi ad esempio questo è un movimento rialzista, questa è una pausa che viene da un movimento rialzista. Che cosa ti aspetti? Anche se non abbiamo la certezza, mi aspetto una ripresa del movimento rialzista precedente alla fase laterale. Bene, questo è un grafico a linea. Andiamo a vedere un altro dei grafici più utilizzati sui mercati, che è il grafico a candele. Queste che vedi sul grafico in questo momento sono le candele, si chiamano candele giapponesi. Ora, che cosa vogliono dire queste candele? Che cosa ci facciamo con queste candele? Allora, ogni candela, il grafico è sempre lo stesso, lo strumento è sempre lo stesso. In questo caso però ogni candela ci fa vedere che cosa, ci mostra molte più informazioni, perché prima avevamo solo l'informazione di chiusura dell'unità di tempo, quindi eravamo, ad esempio ora siamo sulla settimana, prima il grafico lineare ci dava le chiusure della settimana. Le candele che cosa ci danno? Ci danno molte più informazioni. Che informazioni ci danno le candele? Le candele ci danno quattro informazioni. L'apertura, quando la candela è verde, dobbiamo anche distinguere tra verde e rosso, quando la candela è verde ci dà l'apertura, che è la base della candela, ci dà la chiusura, che è la parte alta del rettangolo della candela, e poi ci fa vedere i prezzi di minimo e i prezzi di massimo. Ogni candela ci dà queste quattro informazioni. Se la candela è rossa, l'apertura è sopra, la chiusura è sotto, e abbiamo sempre poi il massimo e il minimo dell'unità di tempo della settimana. Ovviamente noi abbiamo queste quattro informazioni, poi però non sappiamo dentro la settimana come si sono mossi i prezzi, che possono essersi mossi in qualsiasi ordine che noi non sappiamo. Perché ad esempio qui sappiamo che, vado a pulire il grafico, sappiamo che questa è l'apertura, questa è la chiusura, massimo e minimo, ma i prezzi dentro quest'unità di tempo, so che hanno aperto qui, ma potrebbero essere saliti, potrebbero essere poi scesi, poi risaliti, poi scesi, potrebbero aver fatto tutto il movimento che volevano dentro l'unità di tempo. So che hanno aperto qui e hanno poi chiuso qui sopra. Hanno fatto un massimo a questo livello e un minimo in quest'altro livello. Va bene, questo è un grafico quindi, è un grafico a candele. Andiamo a vedere, cosa importante, i grafici normali, quelli tradizionali, ci fanno vedere due informazioni. Da una parte abbiamo il tempo, nell'asse orizzontale abbiamo il tempo, qui vedi che passano due settimane, passano i mesi. E nell'asse verticale, che cosa abbiamo? Nell'asse verticale abbiamo il prezzo. Quindi il grafico, che cosa ci mostra? Ci mostra la variazione di prezzo nell'unità di tempo. Questi sono i grafici tradizionali, ma non esistono solo i grafici che ci mostrano i movimenti di prezzo nell'unità di tempo. Ci sono anche i grafici che ci mostrano soltanto il puro movimento di prezzo, senza considerare il tempo. E di questi grafici ne esistono diversi. Il primo mai utilizzato è il grafico, andiamo su un orizzonte un po' più piccolino, è il grafico point and figure. Il grafico point and figure ci mostra, non prende in considerazione il fattore tempo, anche se qui sotto vedi il tempo, vedrai che il trascorrere del tempo non è omogeneo. Qui un anno dura a questa distanza, dal 2019 e il 2020. La distanza dal 2020 al 2021 invece è molto più lunga rispetto a quella dal 2019 e il 2020, perché appunto non tiene in considerazione, non ci mostra il movimento del prezzo nell'unità di tempo, ma ci mostra soltanto il movimento del prezzo. Poi se per fare un movimento di prezzo ci mette un giorno o un anno, a lui non gli interessa. Il grafico atemporale, che è come si chiama questa tipologia di grafico, ci mostra esattamente il solo e soltanto la variazione del prezzo. In questo caso il point and figure è un grafico rappresentato tra X e cerchi, perché c'è uno storico, inizialmente le persone, gli operatori, quando non c'erano i computer, registravano le variazioni di prezzo sul retro delle buste delle lettere, mettendo delle X o dei cerchietti per ricordarsi se i prezzi erano saliti o erano scesi. Quindi questa era una delle prime tecniche di rappresentazione grafica dei prezzi, che poi è ritornata in voga con l'utilizzo, con l'evoluzione dei computer, e adesso tuttora si utilizza ed è molto utilizzata. Poco dagli youtuber, ma di più dagli operatori professionali. Ovviamente tra i grafici atemporali abbiamo anche il Kaji, il Kaji che è sempre atemporale, non prende in considerazione il tempo, ma ha il puro movimento di prezzo ed è rappresentato da questa linea continua che mostra, che vedi anche delle colorazioni diverse. Ora non entro nei dettagli di questa rappresentazione grafica, però vedi come è particolare. Ancora abbiamo tra i grafici atemporali il Renko, che il Renko in giapponese vuol dire mattone, che è un grafico a mattoncini, perché come puoi vedere queste unità si chiamano Renko, si chiamano mattoncini e il grafico ha una rappresentazione a mattoncini. Possiamo cambiare la grandezza di questi mattoncini in base a se vogliamo avere un grafico più pulito o con più informazioni. Attenzione che più informazioni vuol dire anche più confusione, più falsi segnali. Grafici più puliti vuol dire meno informazioni, più pulizia, ma anche meno falsi segnali. Normalmente quando si opera sui mercati si utilizzano due tipologie di grafici. Il grafico più pulito, di più ampio respiro, quindi su orizzonti più lunghi per fare l'analisi. E poi il grafico più stretto, quindi quello con più informazioni, che si muove un po' di più, per fare operatività. Quindi dobbiamo dividere questa doppia tipologia di grafico. Anche il grafico Renko è un grafico atemporale che mostra solo il movimento di prezzo. Cioè viene aggiunto un mattoncino solo quando il prezzo fa un movimento sufficiente per disegnare almeno un mattoncino. Quindi qui abbiamo rosso quando scende almeno un'unità. Vediamo che per passare da un... viene considerato asimmetrico questa tipologia di grafici. Perché? Perché per raggiungere... Se siamo qui, no? Anzi, ipotizziamo che siamo qui, proprio a livelli di oggi. Vediamo come i prezzi ancora... È in verdino perché i prezzi non hanno ancora fatto un movimento tale da poter aggiungere un nuovo mattone. Ora vediamo che per aggiungere un mattone i prezzi devono fare il movimento della grandezza di un mattone. Ma per passare da un mattone di un colore a un mattone dell'altro colore... Ora per avere un mattone rosso i prezzi da questo livello qui dovrebbero andare a chiudere... Dovrebbero muoversi sotto 71,35. Quindi vediamo che per cambiare trend per passare da un mattone di un colore a un mattone dell'altro devono fare molto più sforzo, molto più movimento rispetto che per aggiungere un mattone alla propria direzione. E questa simmetria di movimento quindi dà maggiore enfasi alla continuazione piuttosto che all'inversione lo definisco... Questi grafici vengono definiti grafici proprio per questo motivo asimmetrici perché danno precedenza alla continuazione piuttosto che all'inversione. Un'operatività più... Quella classica su questa tipologia di grafici è operare in direzione del mattoncino. Quindi aspettare che si forma un mattoncino che cambia colore per operare in quella direzione. Proprio per l'attività più semplice che più semplice non ce n'è. Ecco, questo per darvi proprio... Chiaramente ci sono tanti che bisogna approfondirlo. Non basta questo. Però ecco per darvi solo un'idea. E finiamo il giro dei grafici atemporali con i grafici Renko. I grafici, perdonatemi, range. Grafici range anche in questo caso possono essere rappresentati con delle barre come queste piuttosto che con delle candele. Ci mostrano... Ci mostrano le... Anche in questo caso i movimenti puri di prezzo quando i prezzi si muovono della grandezza di un determinato range che possiamo... Che gli diamo noi. In questo caso sono 40 range ma possiamo cambiare i range quanto ci pare in base all'analisi che stiamo facendo. più è grande il valore dei range più siamo su time frame alti time frame da virgolette perché non c'è il tempo siamo su orizzonti siamo su una zona alta di analisi e più invece scendiamo con la grandezza del range più siamo su una zona operativa di operatività e non di analisi. Questi ragionamenti valgono valgono su tutto sia dalle candele che dalle linee eccetera. Più siamo su time frame lunghi più siamo su una fase di analisi più siamo su time frame brevi più siamo su una fase di operatività. Attenzione che lunghezza e brevità dipende da il tipo di operatività che facciamo. Se io faccio un'operatività multi day per me settimanale quindi il grafico settimanale è il grafico di è il grafico di analisi quindi analizzo sul settimanale e il mio grafico operativo di operatività è il grafico daily il grafico giornaliero. Se siamo dei trader in tre day magari potremmo avere il grafico di analisi che è il grafico ad un'ora mentre possiamo avere il grafico oppure il grafico a quattro ore e possiamo avere magari poi un grafico operativo che è il grafico ad esempio a cinque minuti. Va bene? Quindi dipende dall'operatività che facciamo. Non è che il settimanale è il time frame di analisi per tutti. Se io faccio intraday magari il settimanale neanche lo guardo. Se io faccio multi day l'orario o il 10 minuti il 15 minuti non lo guardo. Quindi ognuno poi utilizza i propri i propri time frame orizzonti temporali in base alla propria operatività. Questa è una rapida panoramica di come si si leggono i grafici delle informazioni delle informazioni che ci possono dare. Chiaramente va approfondito sono tutti questo è una un discorso iniziale di avvicinamento ai grafici che poi andremo ad approfondire in altri video. Quindi fatemi sapere che cosa vi interessa sapere sui grafici sul movimento di prezzo. Qualcosa che non avete capito che non vi è chiaro che avreste sempre voluto chiedere ma che non avete mai avuto il coraggio di fare. Quindi scrivetemelo qui sotto nei commenti così magari vi preparo un video ad hoc dove vado a rispondere alle vostre domande. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto cliccando sul tasto col pollice in su condividetelo con i vostri amici che potrebbero non sapere tutte le cose che vi ho detto in questo video e iscrivetevi al canale cliccando sul tasto iscriviti così almeno non vi perderete tutti i prossimi video e vi ricordo di andare sotto in descrizione dove vi ho messo il link per accedere a tutti questi contenuti della nostra iniziativa trader multi day per chi vuole imparare a fare trading di medio lungo termine per avere una entrata extra al proprio stipendio per chi non ha magari tempo per fare trading intraday qui sotto in descrizione trovate il link ci vuole un secondo per registrarsi è gratuito e vi beccate veramente una valanga di informazioni detto questo io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao